Inaugurando la nuova facciata della chiesa parrocchiale, eretta ora a Basilica Minore, Desio conclude i festeggiamenti per la celebrazione dell'ottantesimo compleanno del suo più illustre cittadino, il sommo pontefice Pio XI, alla presenza di sua altezza reale il Duca di Bergamo, di sua eminenza il Cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, di sua eccellenza Tassinari in rappresentanza del governo e di numerosissime personalità. A destra della chiesa, nella via che ora prende il nome di via Pio XI, si trova al numero 4 la casa natale del pontefice, fra le più antiche del borgo, e che per desiderio del Papa stesso è stata trasformata in orfanotrofio maschile, dove sono ospitati 60 ricoverati.